Buongiorno, mi chiamo Fabio Farello e mi occupo di medicina naturale. Aiuto i miei pazienti a mantenere o recuperare la salute attraverso sistemi di cura non invasivi. Nel video di oggi ci occupiamo dei cinque elementi dell'agopuntura tradizionale. Questi sono il legno, il fuoco, la terra, il metallo e l'acqua. La teoria dei cinque elementi è una convenzione di valore. La convenzione serve per affermare in modo riproducibile la qualità oscillatoria di ciò che si osserva. Al contrario delle convenzioni di valore, in occidente disponiamo di convenzioni di misura. Il metro per la lunghezza, il chilogrammo per la massa, il secondo per il tempo. Le convenzioni di valore invece sono tipiche della tradizione cinese. Sostanzialmente sono lo yin e lo yang e la teoria dei cinque elementi. Lo yin e lo yang sono stati oggetto di un video precedente al quale potete accedere tramite il canale youtube. Le cinque fasi evolutive o cinque elementi sono pertanto l'applicazione dello strumento yin e yang a fenomeni di tipo oscillatorio. Tutta la realtà osservabile è descrivibile sia come materia sia come oscillazione. Questo è un principio noto anche alla nostra scienza. Quando noi pensiamo a un'oscillazione però la vediamo graficamente come una serpente che si muove nel tempo. Quel motivo di questa scelta grafica dipende dallo strumento idoneo a rilevare l'oscillazione che è l'oscilloscopio. Sullo schermo di un oscilloscopio il fenomeno oscillatorio si presenta come un serpente. In oriente la forma grafica per rappresentare l'oscillazione in realtà è un cerchio. Questo dipende da una diversa concezione del tempo che per l'oriente è più inteso come circolare. Ora se sovrapponiamo la forma grafica a serpente alla forma grafica a cerchio in realtà otteniamo una spirale che probabilmente è la scelta più completa e giusta. Torniamo però alla scelta di rappresentare l'oscillazione come un cerchio. I cinque elementi in realtà sono lo yin e yang applicato a questo cerchio come rappresentazione dell'oscillazione stessa. Per utilizzare yin e yang a tal fine dobbiamo ricordare i significati di yin e yang. Allo yang è associato tutto ciò che è scatenante, inducente, dinamico, mutabile, espandente, dissolvente, attivo, espanso, estroverso, centrifugale e innovatore. Al contrario e in modo assolutamente complementare, allo yang viene associato tutto ciò che è concludente, confermante, statico, stabile, condensante, organizzante, strutturale, contratto, introverso, centripetale e conservatore. Ora, se torniamo alla nostra oscillazione rappresentata come un cerchio e dobbiamo applicare lo yin e yang a questa oscillazione, possiamo dire che la parte bassa è yin e la parte alta dell'oscillazione è yang. Quando facciamo questa applicazione dello yin e yang potremmo giungere anche a una conclusione diversa. Potremmo dire che la parte a sinistra dell'oscillazione, ovvero l'inizio è yang, rispetto alla parte destra dell'oscillazione, il termine, che si qualifica come yin. Ora, quando esistono due possibilità, è buona cosa, invece di litigare, di sovrapporle. In tal caso, otteniamo di dividere la nostra oscillazione in quattro diverse fette, come se fosse una torta. Queste fette hanno qualità diverse. La prima fetta in basso a sinistra si qualifica yin tramite la prima suddivisione e yang tramite la seconda. è uno yin che va verso lo yang. Questo è definito legno. La seconda fetta di torta, in alto a sinistra, si qualifica yang tramite entrambe le suddivisioni. Dunque è la massima espressione di yang. Questo è denominato fuoco. La terza fase, ovvero a destra in alto, si qualifica yang tramite il primo asse polare e yin tramite il secondo, dunque uno yang che va verso lo yin. Questo è definito metallo. Infine c'è un'ultima fase, in basso a destra, che è qualificata yin tramite entrambi gli assi polari, ovvero questo segmento della torta ha la massima espressione di yin. Ciò viene definito acqua. Infine l'intersecazione di due assi polari crea un punto di neutralità. Il punto centrale del sistema è definito terra e non appartiene a nessuna delle quattro fette di torta. Dunque se vogliamo riassumere, il legno è tutto ciò che è yang potenzialmente, il fuoco tutto ciò che è yang attualmente, il metallo è lo yin potenzialmente e l'acqua e lo yin attualmente. Infine esiste un punto di neutralità che è chiamato punto terra. Ovviamente a questa definizione immediatamente è possibile associare i ritmi circadiani, circannuali e lo spazio. Al legno corrisponderà l'oriente, la primavera e la mattina. Al fuoco corrisponderà il sud, l'estate e il mezzogiorno. Al metallo corrisponderà l'occidente, l'autunno e il pomeriggio. E infine all'acqua corrisponderà la mezzanotte, l'inverno e il nord. Il Tao riassume tutti questi significati in un unico simbolo. Nel legno vediamo il verme bianco, ovvero lo yang, che cresce. Questo yang raggiunge la sua massima espressione nel fuoco. Già al massimo ha in sé il germe dello yin nascente, il punto nero. Nel metallo il verme nero cresce e raggiunge il suo acme, il suo culmine, nell'acqua. Al massimo dell'espressione dello yin già viene a generarsi il yang nascente. Se vogliamo tradurre legno, fuoco, terra, metallo e acqua con un linguaggio più moderno, tipico dell'osservazione oscillatoria della realtà, il legno di un'oscillazione corrisponde all'interfase crescente, il fuoco all'acrofase di un'oscillazione, la terra all'emifase dell'oscillazione, il metallo all'interfase decrescente dell'oscillazione e l'acqua corrisponde alla batifase di un'oscillazione. Dunque, se disegniamo un'oscillazione con la forma a serpente o la disegniamo a cerchio, poco cambia. Si tratta semplicemente di diverse forme grafiche che definiscono la stessa realtà oscillatoria osservata. Le cinque fasi evolutive, o i cinque elementi, dunque sono solo un linguaggio per descrivere una realtà non come massa ma come oscillazione. L'obiettivo ultimo dell'agopuntura è il raggiungimento di un equilibrio fra le varie oscillazioni che compongono la vita umana. L'equilibrio delle componenti oscillanti della vita organica è, per la tradizione cinese, salute e assenza di malattia. Nel prossimo video tratteremo la teoria delle sequenze, che sono lo strumento con cui impiegare le cinque fasi evolutive al fine di raggiungere questo equilibrio profondo che mantiene, preserva o riconsegna la salute alla persona malata. Siamo giunti al termine del video, spero vi sia piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie!